Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial su AlterX. Oggi vedremo come effettuare delle analisi predittive. Se volete seguire con me il tutorial, nella descrizione del video troverete un link per scaricare il workflow di AlterX, in cui sono già presenti due text tool con la classifica del campionato di calcio e le statistiche sulle squadre. Classifica alla 32esima giornata di campionato, in realtà per fare uno studio completo bisognerebbe farlo a campionato finito, però non potevo aspettare la fine del campionato per fare il tutorial, quindi ho preso i dati che ci sono in questo momento. Intanto quello che interessa a noi non è poi in realtà andare a fare una vera predizione sulle statistiche del campionato di calcio italiano, ma vedere in realtà come funzionano i tool di AlterX. In questo tutorial andremo a vedere strumenti che si trovano nella tab Data Investigation e in particolare un Field Summary per andare a vedere come sono composti i nostri dati. Infatti, a seconda di come sono fatti i nostri dati, non potremo utilizzare tutti i tool predittivi che sono presenti nella tab Predictive. Questo perché alcuni modelli di regressione, ad esempio, non accettano valori nulli, quindi dovremo andare a vedere se all'interno dei nostri dati ci sono dei valori nulli, dei valori mancanti e in caso andare a sostituirli con qualcosa. Argomento su cui in realtà si potrebbe quasi fare direttamente un tutorial a parte, questo perché la decisione di come andare a rimpiazzare i valori nulli è una decisione importante che potrebbe avere delle ripercussioni sulle nostre analisi. Proviamo a pensare ad esempio un'analisi fatta su dei sondaggi in cui le donne dai 30 ai 50 anni si sono rifiutate di mettere quale è la loro età. avremo tutta una serie di valori nulli che possiamo ad esempio andare a colmare con la media di tutto il nostro dataset. Se però facciamo una cosa del genere, quando andremo ad avere il nostro dataset completo, risulterà come se un'intera classe di età non abbia partecipato al sondaggio, cosa che in realtà non è vera. Quindi questo potrebbe portarci a un'analisi totalmente sballata. In alcuni casi forse è meglio utilizzare altri tipi di modelli predittivi che invece accettano i valori nulli. Altra cosa che faremo sarà andare a vedere se esiste una correlazione con l'association analysis tool tra le variabili che abbiamo nel nostro set di dati. Quindi andremo a vedere se effettivamente la nostra variabile dipendente, cioè le vittorie, viene condizionata da tutte le altre variabili che abbiamo all'interno dei nostri dati. Quindi i tiri totali, i tiri in porta, i cross utili, i cross sbagliati, i chilometri percorsi, i medi da tutti i componenti della squadra, le parate. Se esiste veramente una correlazione, questo perché è inutile andare a fare delle predizioni su dei dati che nel momento in cui cambiano non fanno cambiare la nostra variabile dipendente. Ha un senso fare delle predizioni solo tra variabili per le quali c'è una correlazione. Quindi se aumenta uno aumenta anche l'altra, una correlazione positiva, o se aumenta uno l'altra diminuisce, una correlazione negativa. Però è importante che una correlazione esista. Quindi iniziamo con la nostra analisi predittiva. Andiamo prima di tutto a investigare i nostri dati. La prima cosa che dovremmo fare sarà cercare di unire questi due dataset separati. Possiamo fare una join sul nome della squadra, ma già vediamo che nel file della classifica la squadra è scritta in minuscolo con una sola lettera iniziale maiuscolo, mentre nelle statistiche è scritta tutta maiuscola. Dovremmo rendere le due formattazioni uguali. Andiamo nella tab preparation. Prendiamo un formula tool, lo trasciniamo davanti al file delle statistiche e trasformiamo in title case, quindi solo con la prima lettera maiuscola, la squadra. Quindi selezioniamo la colonna della squadra perché vogliamo andare ad aggiornare quello che c'è già scritto. Andiamo nelle funzioni, tab string, e andiamo sotto la T a cercare title case. Title case string, al posto di string andiamo a mettere la squadra. Andiamo in esecuzione ed ecco che adesso le squadre sono scritte nello stesso modo in entrambi i set di dati. Prendiamo una join e andiamo ad unire le due tabelle utilizzando proprio la squadra come chiave. Nel left non abbiamo niente, nel right non abbiamo niente. Ottimo, vuol dire che siamo riusciti a unire tutte le squadre. E nel connettore J abbiamo la nostra classifica a cui abbiamo aggiunto anche tutti i dati statistici sulle squadre. possiamo nel join tool possiamo andare a togliere la colonna right squadra perché è un doppione, non ci serve averla due volte. E adesso possiamo andare nel data investigation prendere il tool field summary connetterlo al connettore J della join clicco con il tasto destro sul tool e scegliamo di aggiungere tutti i browser. Selezioniamo tutte le nostre colonne e mandiamo in esecuzione. Nel primo connettore in uscita abbiamo dei grafici che ci fanno vedere com'è la dispersione com'è l'andamento o la dispersione delle nostre variabili. Nel secondo abbiamo praticamente lo stesso grafico che abbiamo visto prima in cui di fianco abbiamo anche tutti i dati riepilogativi sulle variabili e nell'ultimo abbiamo invece un report dinamico in cui abbiamo quella icona forma di informazioni aggiuntive e poi abbiamo un grafico che ci mostra la frequenza dei dati quello che a noi interessa in realtà è il connettore di mezzo nella colonna missing percentuale vediamo che il nostro dataset è completo non c'è non abbiamo valori nulli ci dà anche un'informazione su quanti sono i valori unici quindi il conteggio distinto di ogni valore all'interno delle righe il minimo il massimo la media e la mediana e anche la deviazione standard esiste anche un campo che ci dà delle note aggiuntive ad esempio vediamo se prendiamo la variabile g le partite giocate vedete che praticamente i pallini sono tutti sulla stessa riga questa perché tutte le squadre hanno giocato 32 partite e la colonna dei remarks ci avvisa che questo campo ha una sola ha un solo unique value quindi ha un solo valore lo scambia per una sorta di di id e ci dice che faremo meglio a modificarlo e trasformarlo in una stringa ora che ci siamo assicurati che non ci sono dei valori nulli possiamo procedere all'analisi di correlazione andiamo a prendere il tool che si chiama association analysis lo connettiamo al connettore J della join andiamo a selezionare un target quindi cosa vogliamo utilizzare come variabile dipendente e noi vogliamo utilizzare le vittorie in caso si trattasse di una di un valore boleano quindi categorico che può contenere un valore vero o falso sì o no o comunque può assumere soltanto due valori nel text box qui sotto possiamo anche scrivere su quale dei due valori vogliamo effettuare la correlazione quindi ad esempio stessimo studiando la partecipazione di un cliente a un'eventuale promozione potremmo fare un'analisi di correlazione mirata direttamente alla partecipazione sì oppure alla partecipazione no in questo caso noi non abbiamo una variabile categorica e le variabili che vogliamo studiare se è il caso di utilizzarle come variabili indipendenti saranno sicuramente non le vittorie perché è già la nostra variabile dipendente quindi è inutile selezionarla perché la vittoria con la vittoria avrà sicuramente una correlazione perfettamente positiva andiamo a togliere anche andiamo a togliere anche la classifica i punti e direi anche le partite giocate tanto è 32 per tutte le squadre quindi il tipo di analisi di correlazione che andremo a fare è la correlazione di Pearson inseriamo un browse tool su entrambi i connettori in uscita e mandiamo in esecuzione nel connettore in basso abbiamo la matrice di correlazione vedete abbiamo praticamente in ogni quadratino sull'asse verticale abbiamo tutte le nostre variabili in ogni quadratino sull'asse orizzontale abbiamo di nuovo tutte le nostre variabili e andando a vedere nell'incrocio tra uno e l'altro avremo la correlazione tra le due variabili che fanno che si trovano in quel punto nella diagonale centrale ovviamente abbiamo perfetta correlazione perché è dove la variabile si confronta con se stessa quadratino rosso significa una correlazione positiva quindi al crescere di uno cresce anche l'altra man mano che il rosso diventa sempre più sbiadito la correlazione sarà sempre minore quadratino blu invece abbiamo una correlazione negativa quindi all'aumentare di uno diminuisce l'altro e anche qui tanto più sarà scuro il colore tanto maggiore sarà la correlazione mentre via via andando verso i colori più sbrediti la correlazione sarà sempre minore fino ad arrivare ai puntini bianchi o grigio chiare in cui vedete i puntini all'interno del grafico non hanno un andamento lineare ma sono tutti sparpagliati all'interno della nostra matrice l'output invece superiore ci dà proprio il risultato dello studio di correlazione in formato tabellare e la parte che a noi in realtà interessa è questa prima tabella in alto in cui abbiamo questo valore p value che ci indica la correlazione tra ogni singola variabile e la vittoria che abbiamo segnato essere la nostra variabile dipendente e il numero di asterischi che abbiamo qua di fianco ci il numero di asterischi che abbiamo qua di fianco ci indica la significatività del dato quindi dove abbiamo tre asterischi vuol dire che sono tutte variabili che hanno una correlazione con la vittoria quindi possono essere utilizzate all'interno del nostro studio dove di asterischi ne abbiamo uno addirittura zero sono via via variabili che hanno una correlazione sempre minore noi utilizzeremo le prime cinque variabili che hanno una significatività alta quindi andiamo a prendere un select tool e dal nostro connettore join andiamo a tenere soltanto le variabili che abbiamo appena scoperto quindi la classifica la possiamo togliere terremo la squadra le partite giocate le avevamo tolte le vinte PRSRF tutte le altre le togliamo 4 e 5 ok siamo pronti per andare invece a studiare i modelli predittivi andremo a utilizzare tre diversi modelli e di questi tre vedremo qual è quello più adatto quello che ci dà la predizione diciamo meno avventata meno sbagliata i modelli che abbiamo deciso di utilizzare sono la regressione lineare il forest model e le spi line e le spi line vanno praticamente impostati tutti allo stesso modo vediamo che ad esempio la regressione lineare in questo momento vede soltanto i tiri totali se torniamo nel select andiamo a vedere non è capace di prendere i valori in byte quindi tutti questi valori byte dobbiamo in realtà trasformarli in integer dimensione 16 in questo modo verranno letti dalla regressione lineare la nostra target la variabile dipendente sarà la vittoria quella indipendente tutti tranne la vittoria e la squadra stessa cosa per il secondo modello e stessa cosa per il terzo modello in cui però dovremmo anche andare a specificare che si tratta di una variabile continua per il quale vogliamo utilizzare il metodo gaussiano ora inseriamo uno score tool il tool con la porta da calcio che sarà il tool che andrà ad eseguire lo score quindi proprio la predizione non ha bisogno di nessuna configurazione e poi già che ci siamo inseriamo subito un formula tool dopo ogni score creando un'etichetta con il nome del modello quindi tipologia stringa questo lo chiamiamo lineare facciamo copia e incolla del tool così ce l'abbiamo praticamente già impostato dobbiamo solo andare a cambiare l'etichetta il secondo è il forest e il terzo è l'sp line e poi mettiamo un union tool per andare a incolonnare uno sotto l'altro tutti i risultati di questi tre in questi tre modelli adesso perché dovremo andare a stabilire quali dei tre è il migliore partendo dal select tool andiamo a prendere la nostra totalità dei dati e la inseriamo nel connettore in basso dello score e mandiamo in esecuzione ecco che qui abbiamo il valore score quindi potenziale numero di vittorie per ogni squadra calcolato con tutti i modelli quello che ora dobbiamo andare a fare è calcolare lo scarto quadratico medio per vedere qual è il modello che ci dà un errore minore rispetto agli altri quindi stabilire qual è il migliore lo scarto quadratico medio è dato dalla sommatoria della differenza tra i valori predetti e i valori reali tutti elevati al quadrato fratto la sommatoria dei valori veri quindi dovremo andare a ricreare questa operazione con i tool a disposizione che abbiamo a disposizione che Alteryx ci mette a disposizione prendiamo un formula tool creiamo una nuova colonna che si chiama scarto quadratico andiamo nelle funzioni matematiche e cerchiamo l'elevamento a potenza pov x e cosa vogliamo elevare a potenza la differenza tra il valore reale la v di vittoria meno lo score la predizione della vittoria fatta ora dobbiamo calcolare le due sommatorie quindi prendiamo un summarize prendiamo lo scarto quadratico chiediamo una somma e poi chiediamo anche una somma di tutte le vittorie raggruppato per modello quindi per ogni per ogni modello avremo la sommatoria degli scarti quadratici e la sommatoria dei valori reali ora non ci resta che fare la divisione tra i due valori scarto quadratico medio sommatoria sommatoria degli scarti al quadrato fratto la sommatoria di tutte le vittorie e già che ci siamo prendiamo un sort tool e mettiamo i dati in base allo scarto quadratico medio a scendere così vedremo qual è quello con lo scarto minore modello con lo scarto migliore è l'SP line quindi utilizzeremo proprio questo SP line per andare a fare la nostra predizione prendiamo un sort tool lo connettiamo allo score mettiamo i dati in ordine decrescente in base alle vittorie a sinistra abbiamo come la classifica e oggi a destra invece come potrebbe essere la classifica finale dell'anno prossimo quindi una predizione su cui vincerà più partite l'anno prossimo il tutorial è finito ci vediamo al prossimo ciao ciao